Over 60 al via la terza dose di vaccino anti-covid-19. Dalle ore 12 di sabato 16 ottobre, infatti, anche gli ultra-sessantenni troveranno sul portale regionale Prenota Vaccino un apposito pulsante per fissare l'appuntamento nei centri vaccinali della Toscana. Dopo le persone ultra-fragili, gli over 80, ospiti e personale dell'RSA, operatori sanitario ed interesse sanitario e altamente fragili, dal 16 ottobre arriva il turno di coloro di età compresa tra i 60 e i 79 anni che abbiano già fatto la seconda dose da almeno sei mesi. Nel contesto nazionale la Toscana si conferma la prima regione insieme alla Lombardia per coinvolgimento con oltre l'80% della popolazione vaccinata con almeno una dose. Io penso che la terza dose rappresenti un livello di sicurezza nella immunizzazione generale che in questi giorni comunque mi è molto confortato dal fatto che siamo ormai da giorni primi in Italia per la diffusione della prima dose di vaccino e onestamente il fatto di essere primi nella prima dose ma ormai anche quarti per la seconda dose cioè per l'immunizzazione complessiva denota che forse la Toscana in questo momento ha come capacità di vaccinazione diciamo un profilo nazionale che mi è stato riconosciuto anche ieri mattina dal generale Figliolo come sicuramente un esempio per le altre regioni italiane. Grazie.